La vita e la morte sono sempre congiunte, i vivi vivono nella memoria di quelli che non ci sono e forse quelli che non ci sono ci vedono, perché hanno un'altra vista, una seconda vista. Nei miei romanzi c'è sempre questa doppia vista, perché l'uno richiama l'altro, i fantasmi, l'invisibile, che sono i fantasmi della mente, che sono ossessivi, riemergono e ci tengono compagnia, spesso più dei vivi. La dilatazione dell'immaginazione è questo dono, di poter visitare e abitare una doppia realtà, perché la realtà che si vede non basta. E questa è la concezione che presiede tutta la mia opera narrativa. dalle città del dottor Malaguti fino a Lazzaro.